I giorni di marzo, evento culturale alla Pinacoteca Massimo Rao a San Salvatore Telesino con la presentazione del libro della scrittrice Angela Lina Barbieri. Il mio libro è un libro autobiografico che parla dell'esperienza del cancro che ho avuto qualche anno fa ed è un messaggio per tutte le donne, per avvicinare tutte le donne alla prevenzione perché la prevenzione salva la vita. Il dolore è fortifica ma dal dolore si può rinascere. Infatti il mio è un libro che parla di rinascita, è un libro che volutamente sia dalla stesura della copertina come vede questo giallo molto chiaro, questo giallo ocra, sia anche dalla snellezza del linguaggio letterario e della semplicità della scrittura è stato fatto per dare alle donne l'immagine che da questa malattia si può risorgere, come sono risorta io ed è una speranza che deve essere coltivata per tutti coloro che vengono colpiti dal male. La rinascita interiore come essere umano che ama la vita. Sì, l'attaccamento alla vita è senz'altro un fattore determinante per riuscire a risorgere da questa malattia, ovviamente unitamente alla terapia, alla cura che bisogna affrontare però è necessario mantenere la voglia di lottare, la voglia di ricominciare e di sperare di continuare la vita, di non lasciarsi andare a nessuna forma di depressione o di vittimismo o di tristezza, è fondamentale. La prevenzione quindi come aiuto indispensabile per la salvaguardia della vita? Assolutamente indispensabile tant'è che io ne ho fatto uno scopo anche in seguito alla morte di una mia sorella diciamo di sotto dei 40 anni e quindi è stato uno shock tremendo però ci tengo a dire che il mio libro vuole mandare proprio questo messaggio, prevenzione perché salva la vita, io mi sono salvata la vita grazie alla prevenzione. I proventi della raccolta delle vendite di questo libro andranno ad aiutare la ricerca sul cancro? Esatto, tutti i proventi della raccolta di questo libro andranno all'associazione Underforti che è un'associazione che si occupa delle donne colpite dal male al di sotto dei 40 anni ma non solo, aiuterò anche tutte le associazioni che si occuperanno della prevenzione e dell'aiuto soprattutto diciamo di chi viene colpito da questo male soprattutto donne con questo piccolo trauma al seno. I giorni di marzo la forza delle donne, cosa nasce nel sesso femminile per avere questa tenacia, questa caparbietà di guardare sempre la luce? Probabilmente l'esperienza più importante è quella che nasce dal corpo delle donne, noi donne abbiamo uno spazio cavolo, spazio uterino nel quale concepiamo la vita ma potenzialmente a volte purtroppo anche la morte e quindi da queste esperienze corporee traiamo anche una dimestichezza con la malattia, con la salute con la malattia nella salute e viceversa e queste sono esperienze che chiaramente ci rendono più avvezzi a prenderci anche cura dell'altro oltre che di noi stessi quando siamo ammalate. Un monito è un segnale alle giovani generazioni che sono completamente scollate rispetto alla società. Ecco, ritornare appunto innanzitutto al corpo, alle esperienze attraverso il corpo perché il virtuale staccandoci dal corpo ci stacca dal fondamento della nostra identità anche psichica e sociale che nasce nel corpo. L'associazione Massimo Rao persegue esclusivamente obiettivi di carattere culturale e sociale, luogo di incontro e aggregazione. Oggi una riflessione sulla forza delle donne. Sì, l'associazione culturale APS di promozione sociale dedicata all'amico Massimo Rao è presente sul territorio già dal 2012 e da quell'anno che in qualche modo ci attiviamo per valorizzare l'immagine ed anche il ricordo di un pittore che è patrimonio di tutto il territorio sannita. Noi facciamo eventi di vario genere che sono eventi, come giustamente diceva lei, legati alla cultura. La cultura è in senso lato, non solo arte, non solo fotografia, quindi non solo arti visive ma anche letteratura, problemi di, diciamo, affrontiamo problemi di socialità. Dunque cerchiamo in qualche modo di dare un contributo ad un territorio che chiaramente sconta il fatto di essere un territorio, diciamo, di interno, no? Che in qualche modo ha la necessità di essere vericolato verso le grandi realtà. Stasera faremo una riflessione sulla forza delle donne. Il mese di marzo è, come tutti sapete, dedicato al femminile. Un femminile che non deve essere visto semplicemente come una festa, questa non è una celebrazione, ma bisogna ricordare anche il contributo che le donne da sempre hanno dato alla società. Noi lo vogliamo ricordare attraverso due eventi fondamentali. Il primo, quello di stasera, avrà come tema la forza, il coraggio delle donne, la resilienza. Affronteremo un argomento che può sembrare un argomento difficile, ma che è un argomento che in realtà sarà un argomento che ci consentirà di valutare quanto le donne poi alla fine ce la fanno, no? Quanto sono coraggiose. L'argomento è la malattia. A me piace parlare più che di malattia di guarigione. Quindi l'idea che le donne in qualche modo possano, attraverso anche un momento di dolore, dare quella forza, quel valore aggiunto che loro hanno. L'associazione Massimo Rao, punto di riferimento e apice della cultura territoriale. L'orgoglio di tramandare il messaggio culturale e il patrimonio artistico di uno dei massimi esponenti dell'arte contemporanea. Sì, è emozionante per noi che siamo stati amici di Massimo Rao ritrovarci in quella che, io dico sempre, è la sua casa. E' qui che vive Massimo Rao, vive tra le sue opere, tra i suoi dipinti, tra le sue suggestioni. Per noi è emozionante parlare di arte, di letteratura, di musica, di teatro e farlo partendo da questa pinacoteca comunale. È importante che il territorio non dimentichi Massimo Rao, che non ci sia l'oblio, perché spesso succede così. E il nostro compito è quello. Il compito educativo è coraggioso, perché la cultura nei giovani in questi momenti è cosa preziosa. Alimentare la cultura si alimenta la libertà e accresce il pensiero. Bellissimo, assolutamente sì. E' attraverso la cultura che gli uomini possono essere liberi. E oggi è una società veramente complicata, difficile. Le nuove generazioni hanno bisogno veramente tanto di messaggi culturali, perché sono sviati da tantissime suggestioni, e lo sappiamo, noi che siamo un po' più avanti negli anni. Molto giusto quello che lei stava dicendo. La cultura è importante. Il messaggio culturale va veicolato e l'arte è una delle espressioni più alte del messaggio culturale, perché ha un impatto visivo, ha un impatto di suggestione. Con i ragazzi noi abbiamo fatto anche un progetto di narrativa. Abbiamo organizzato un premio di narrativa che aveva come titolo Ti racconto un quadro di Massimo Rao. Questo premio purtroppo è andato, l'avevamo fatto nel periodo del Covid, quindi abbiamo avuto anche difficoltà a fare la premiazione. Però sono arrivati tantissimi racconti. E questo proprio perché volevamo che gli studenti, i giovani, prendessero contatto con i quadri di Massimo Rao e elaborassero un racconto, una narrazione, a seconda delle suggestioni che ricevevano dal quadro. Quindi c'era la doppia motivazione, quella di spingere i giovani a venire a vedere in Pinacoteca i quadri di Massimo Rao e quello di dare loro lo strumento narrativo giusto per poter raccontarci questo quadro. L'associazione Massimo Rao è veramente orgogliosa di promulgare questa prima edizione del premio internazionale di pittura. Noi abbiamo realizzato, partiremo il primo aprile, un premio internazionale di pittura dedicato ai pittori dai 18 ai 99 anni, italiani ed anche stranieri. Questa cosa l'abbiamo fatta con la rete Destinazioni Sud, che è un insieme di istituzioni, territorio e enti importanti a cui noi abbiamo aderito. Noi abbiamo aderito, abbiamo fatto un accordo con la rete Destinazioni Sud, siamo entrati nella rete, siamo Destinazione Sannio, proprio per la valorizzazione del nostro territorio, ma per la valorizzazione dell'arte di Massimo Rao. Il premio si chiamerà L'importanza delle radici, anche questa per noi è una denominazione significativa. Il premio deve essere legato al territorio, quindi a quello che il territorio suscita nell'artista e anche al ricordo di un pittore che, come Massimo Rao, ha sempre avuto in mente il territorio. Chi è San Salvatorese e chi conosce l'arte di Massimo Rao lo sa. Non c'è un quadro in cui Massimo non faccia riferimento al nostro territorio, al caffè, alla rocca, a quelle che sono le bellezze naturali del nostro territorio. Quindi lui era molto legato al territorio, molto legato alle radici e questo premio in qualche modo è un omaggio anche a Massimo Rao e soprattutto a Massimo Rao.